ben risentiti ragazzi allora è uscito un po di sole e proviamo a farci un diretto e adesso vorrei andare verso Spoleto ma la è nero quindi penso andiamo verso la Sabina, andiamo verso Spoleto che è il tuo calcio di direttavo e mi ero un po' mi ero con il mio piccolo locale che mi stanno mi stanno alla bangeria e al di pronto quando sarò in prossima vita mi ero un po' perché la strada di Diovo sarà e poi si è un po' maggiore e poi si è un po' maggiore e vediamo! Ciao ragazzi! e vediamo ragazzi adesso andiamo a un po' che si viene non è possibile non è possibile non è possibile Buongiorno a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti.